A partire dalla vicenda principale ci permette di incontrare molteplici storie di immigrazione che si dipanano nello spazio e nel tempo e si muovono fra la ricostruzione storica e la funzione letteraria. Credo che l'incipit sia abbastanza evocativo, il lettore accompagna il protagonista al suo appuntamento presso il consulato canadese di Beirut per ritirare il passaporto su cui è stato apposto il tanto agognato quanto detestato visto. La migrazione è vissuta come scelta individuale o costruzione. Il senso di distacco e lontananza affettiva provato da chi rimane indietro, solitamente gli anziani, e quindi lo scarto intergenerazionale che si viene a creare. Il senso di distacco e lontananza affettiva Il senso di distacco e lontananza affettiva Lontananza affettiva Lontananza affettiva Penso che sia fondamentale intavolare un dialogo e un confronto aperto con l'autrice e l'autore che vada poi a riflettersi nelle scelte interpretative proprio dal processo traduttivo per far sì che le nuove sembianze corrispondano il più possibile alla tavolazione originale. Lontananza affettiva Sicuramente è stata un'esperienza privilegiata dato che ho avuto modo di conoscere direttamente Emily di ascoltarla, di discutere con lei durante tutto il lavoro di traduzione tra un volume l'altro della libreria di casa sua e anche tra un boccone l'altro Come detto ho avuto occasione di incontrare Emily Nostralla in circostanze più formali ma quello che vorrei sottolineare è il fatto che in questo caso particolare la relazione è andata oltre e ho potuto conoscere Emily sia come scrittrice che come persona Con questo lavoro, Emily e Nadia parlano molto del tema del libro e delle cose che possono essere Emily ha pensato in cui si sono iniziato la ricerca di cui è un'esperienza e delle cose che ho trovato per la ricerca di questa ricerca Nadiya è stata una nazione in Libanon quando si è riuscita a Emily si è riuscita a casa e si è riuscita a casa Emily ha riuscita a casa e si è riuscita a casa e si è riuscita a una nazione inibili L'aspetto più problematico e quindi anche il rompicapo più piacevole è stata la resa di espressioni idiomatiche e di formule apotropaiche a cui l'orecchio italiano sicuramente è poco abbezzo. Credo anche che la mia conoscenza del contesto libanese non veramente libresca ma basata sull'esperienza diretta mi abbia aiutata a non tradire prepotentemente il testo dal punto di vista linguistico-culturale. Il kitab, il mowadiah, moumkin bethema la Nadia ka muterjime, leannu hie keman tige min dajah sgiri b'Italia, shabihha bil dajah li btehke anna Emili. Fa heide d'il mowadiah jalli hie l'hejra wu l'ajdaed, moumkin tcon il jazeb jalli khalliha la Nadia t'hib tterjim heidha l'iktaib. Grazie mahan nasralla per continuare a dar rocce alle memori di tua madre. Ena bittmanee la Nadia t'con bi saha jayde daiman maha l'awodaah assaabili li jam bi mirefia l'alamo, Iitalia, bil a khaz. Bittuul in shalla shi yom t'adar tterjim amal taini l'Aimili ila l'Iitali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.